Sale l'adrenalina in casa Scandone, coach Robustelli in vista di gara 1 del play-out di Domenica Reggio tiene sulla corda i suoi giocatori, il giovane allenatore avellinese conosce le insidie che la serie nasconde e teme la fase offensiva della Viola di Bolignano. Una sfida che sicuramente non sarà facile, ci vedrà impegnati in questo primo turno contro la Viola Reggio Calabria. Sappiamo che sarà una sfida lunga, molto impegnativa come ogni serie di post-season alla fine risulta essere. Affronteremo una squadra che ha fatto molto bene nella parte finale di stagione, partita un po' in sordina ma che poi è stata capace di grandi esploiare come la vittoria con Taranto. Una squadra sicuramente organizzata, con delle gerarchie ben chiare soprattutto nella metà campo offensiva con giocatori come Masquerpa, Genovese e Folk che rappresentano dei perni fondamentali per il loro meccanismo offensivo. La scandone deve aggiudicarsi almeno una gara per portare al pala del Mauro la serie e chiudere sul parquet amico il discorso salvezza. Servirà oltre all'aspetto tecnico l'atteggiamento giusto per compiere l'impresa. Vogliamo dar continuità oltre che alle prestazioni che siamo riusciti a fornire nelle ultime partite anche ai risultati, sappiamo che adesso la vittoria è l'unica cosa che conta. Partiamo con lo sfavore del fattore campo, dovremo essere bravi ad affrontare subito le prime due gare a viso aperto per portare la serie qui ad Avellino, riuscirne a prendere almeno una a Reggio Calabria. Sappiamo che sarà dura ma sono molto fiducioso, ci metteremo sicuramente grande energia. Sappiamo che in una serie play-out farà la differenza l'atteggiamento mentale prima ancora che quello fisico. Abbiamo gran voglia di far bene e di conquistare l'obiettivo che è quello della salvezza e sono sicuro che ci proveremo e lotteremo fino alla fine per poterlo fare.